Prima giornata di screening a Chieti e subito grande affluenza. Tanti gli alunni accompagnati dai genitori e personale scolastico dei comprensivi e istituti scolastici cittadini e non in fila per un ritorno in classe in sicurezza, anche se in tanti avrebbero preferito ritardare ancora un paio di settimane. Molto giusta prima della riapertura delle scuole. Penso che far rientrare questi ragazzi a scuola sia assurdo. Io sono un'insegnante tra le altre cose, quindi sono in classe e so che comunque mantenere le distanze con questa variante così contagiosa è difficile. Penso proprio di sì almeno un paio di settimane il tempo di testare tutti quanti con calma, non in questo modo perché insomma ci sono tante persone che arrivano e se ne vanno e questi ragazzini poi rientreranno nelle classi senza neanche sapere se sono positivi o no. Lo staff medico comunicherà tempestivamente la positività rilevata dai tamponi, mentre la negatività arriverà in un secondo momento. In caso di positività l'Hub sospenderà le attività per 10 minuti per la sanificazione. Fa comunque appello al senso civico il sindaco Diego Ferrara che in questo modo invita tutti a sottoporsi al tampone e a continuare la campagna vaccinale affinché la scuola regga e si svolga in presenza il più possibile. Io domani pomeriggio, nel primo pomeriggio farò insieme con il mio assessore Fabio Stella alla sanità faremo un punto sulla situazione statisticamente andando a rilevare il numero dei positivi e quindi il dubbio se si possa tornare a scuola lunedì è un dubbio lescito da porsi in questo momento. La difficoltà nel reperire i tamponi appositi alla base della scelta di non sottoporre ai testi i bambini delle scuole dell'infanzia che non hanno trovato d'accordo il comparto conoscenza della CGL. Per l'infanzia ci attrezzeremo a breve per fare uno screening tutto dedicato a loro. I tamponi salivari non siamo riusciti, la ASL non è riuscita a trovarla sul mercato.